L'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, Bacchetta, le compagnie assicurative e le tariffe della RC Auto in Italia sono nettamente più alte di altri paesi europei, al punto da creare un'ingiustizia grave per le famiglie italiane. Secondo il Presidente Lee Vassarussi, il fenomeno sta assumendo una connotazione grave in una fase molto difficile per molti nuclei familiari in questo periodo di crisi. E un pericoloso segnale arriva dal numero crescente di veicoli che circolano sprovvisti di assicurazione. Per Rossi le tariffe possono e devono scendere senza pregiudicare la solvibilità delle compagnie, non nasconde però le difficoltà legate a problemi di concorrenza, inefficienze delle imprese nella liquidazione dei sinistri e comportamenti fraudolenti degli assicurati.